Buona ragazzi qua è WeGamersHD, oggi siamo qua su Slender, siamo insieme a Manu, Feddi e Romance Oggi giocheremo a Slender The 8 Pages, la versione classica di Slender E niente, partiamo! All'ioire, ci troviamo nel bosco Allora, premessa, io non ci ho mai, cioè ci ho giocato però Non neanche più di tanto perchè soltanto il suono, l'audio mi ha fatto cagare sotto Io non l'ho mai aperto C'è già un albero Ci vuole trollare Eccolo Cos'è? Help me Prima aiutami è quel lì Slender, vieni a trovarci No Lì è la pagina Ok, la seconda pagina 2 su 8 Oh 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 Romana Ti cago sotto Via Via Corri a caso Non controllare E li? Ooh Una bella cagina Una bella cagiruola È una cagiruola Ti spesso un bagno pubblico No, regà che bagno pubblico questo vuole farci uno scherzo il vicolo ceca dimmi sei uscito? ma no, niente, niente, l'hanno messo per un motivo ma che è la testa minuscola? la testa più grande aveva avuto le braccia più piccole ma calmo io non li posso vedere i giochi horror se si ribugga nel muro lo vedi fuori oh, madonna stai perdendo, stai perdendo ma no, raga ho ascoltato anche la torce che giocherebbe a slander così? quello era qui spacchiamo il muro fino adesso tu mi spieghi dove 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 vai dritto qua destra vai 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 appena la prendi lui sparisce se la prendo sparisce? in teoria si se ti giri se ti giri adesso non c'è più no cos'è sta canzoncini cos'è ma non corre più guarda l'erba come vieni lì c'è qualcosa stai perdendo dov'è dov'è dov'è? qua ci dovrebbe essere una pagina forse di cosa qui intanto la pagina si trova per favore fammi un favore cos'è? qua abbiamo trovato una foglia gigante una galleria mi stai c'è una pagina ah! la leggiamo qua è una pagina? eh si cos'è? che bel disegnino che bello sono le pitture rupestre molto bello guarda adesso compare non ci cosa devi drammatizzare eh il fatto che questa brutta situazione oh! cos'era? madonna madonna eeeh perchè sto parlando dritto perchè c'era tipo l'albero misterioso ma cos'era? l'albero misterioso misterioso andiamo noi in cerca dell'ortlander si e poi se devi fare gli tiri un punto adesso compare dall'albero non devo sapere mi chè fai sono i dribbling oh! vedi che dire le cazzate escono le pagine leave me alone e anche prima l'hai detto alone oh! non guardo ne è 5 su oh 5 su not bad not bad esatto magari a notte mani arrivi dai fai oh ma tanto domani ti lascio oh oh via 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 non capisco dove sono dove sono? allora lì è il coso il cammincino il giappone eeeh ancora poi il dribbling eeeh il dribbling quel più basso è la recensione anche questa recensione è una bicicletta al latte ma hai sensato che la torcia è quella che non fa meno luce? ehm giustamente si sa che le batterie non ci sono costantemente da ogni pagina che prenda ci sono prevengiero 2 guarda che stanno andando se non c'è una stradina per farti capire qualcosa non si capisce niente eh ci sta prevenendo lo slender si ma ancora lardo all'esercizio le foto dello slender tipo il real life delle foto dell'esercizio le foto dell'esercizio oh cos'è oh 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 ho visto che non si poteva madò sarebbe tipo il timer una volta che si spegne pazzesco quindi ragazzi il video è di slender spero che vi sia piaciuto io personalmente mi sono cagato addosso brutalmente ma no ma non sei visto e quindi niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo questo è tutto bello bella